Spacciavano cocaina, eroine ed hashish. Nei guai sono così finiti nove giovanissimi aretini che, secondo gli inquirenti, avevano messo in piedi una fitta rete di spaccio di droga in Val di Chiana. Le indagini erano partite lo scorso novembre, quando i militari della compagnia di Cortona avevano sorpreso un 22enne residente a Marciano della Chiana con alcuni grammi di cocaina. Per il giovane erano così scattate le manette con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo settimane di intercettazioni, servizi di osservazione, controlli e pedinamenti, i militari hanno poi ricostruito la fitta rete di spaccio al vertice il 22enne che ancora si trova agli arresti domiciliari, sotto di lui altri nove giovanissimi aretini attivi nei comuni di Monte San Savino, Lucignano e Foiano della Chiana. Tutti e nove, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti, grazie all'uso dei cani antidroga, alcuni grammi di cocaina, eroina ed hashish. In Valdarno, invece, i militari della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato uno spacciatore motociclista sorpreso con 11 ovuli di cocaina. L'uomo, pregiudicato senza fissa di mora e da tempo disoccupato, si spostava infatti agilmente in tutto il Valdarno con la sua motocicletta dalla potente cilindrata per consegnare lo stupefacente. I militari lo hanno aspettato, bloccato e poi arrestato all'uscita del casello autostradale di Incisa. Il pusher è stato infatti trovato in possesso di diversi ovuli di cocaina dal valore approssimativo di 500 euro. A casa, invece, è stato trovato un vero e proprio kit per il confezionamento, bicarbonato con cui veniva tagliata la droga e degli involucri in plastica. Peraltro, lo spacciatore non aveva rinnovato la patente e scaduto ormai da tre anni. Il veicolo circolava così senza assicurazione e senza aver effettuato i controlli previsti. Il mezzo ovviamente è stato sequestrato.